Assessore ha lanciato un appello ben preciso, chi ci rappresenta da pochi giorni in Regione dovrà far sì che il territorio bergamasco risulti evidente alle forze politiche che si faccia qualcosa per stare uniti e per farci sentire. Questo è fuori discussione, noi abbiamo comunque eletto degli amministratori molto validi sia a livello regionale, sono molto contento che 4 su 9 provengono da Valseriana quindi questi amministratori che provengono da diverse forze politiche ben conoscono il territorio vivono in montagna, conoscono le problematiche e i piaceri di quello che può essere la montagna cosa vuol dire lavorare in montagna, quali sono i sacrifici che si fanno e quindi il mio appello è quello di invitarli ovviamente a cercare di profondere le massime energie a difesa e tutela dei territori montani. Quali sono le prospettive concrete che dovranno portare in Regione? Ma la nostra montagna cosa ha ancora da offrire? La nostra montagna ha tante cose da offrire, il problema è che c'è un rischio comunque di spopolamento perché se l'industria ormai sta cedendo, vengono a perdersi dei posti di lavoro è il rischio comunque di spopolamento, di aree magari meno facili da poter vivere e quindi essendoci questo rischio è ovvio che bisogna far sì che si mettono in atto tutte quelle iniziative per far sì che la montagna torni a vivere, anzi continui a vivere. La comunità montana comunque nonostante tutte le vicissitudini che conosciamo si rende ente capofila qualsiasi siano le richieste e le domande da portare in Regione? Ma è difficile perché il ruolo istituzionale c'è, però è evidente che senza risorse si può fare poco noi abbiamo comunque uno stretto collegamento con la Regione e quindi è evidente che noi in qualche modo cerchiamo di appellarci a quelli che sono i rappresentanti istituzionali a livello regionale.